Sicuramente è una settimana diversa perché ci ha dato la prima settimana obiettivo raggiunto per il quale si è lavorato all'inizio stagione però ancora una volta questa squadra ha dimostrato grande professionalità, ha dimostrato grande maturità perché ha lavorato con dedizione e con impegno siamo consapevoli che abbiamo ancora 4 partite a giocare, che ci sono 12 punti a disposizione, che abbiamo un'imbattibilità da cercare a tutti i costi e in tutti i modi di mantenere abbiamo qualche piccolo obiettivo di cui ne andiamo fieri compreso essere la miglior difesa d'Italia e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di lavorare bene in settimana per cercare di congelare questi obiettivi che possiamo raggiungere e soprattutto per cercare poi di farsi trovare pronti quando inizierà la Pusco Detto, la Coppa Italia e non è che siamo dei robot che stacchiamo la spina e poi l'attacchiamo, quindi dobbiamo tenere questa intensità con più spensieratezza sicuramente perché non abbiamo la pressione dell'obiettivo da raggiungere, però la professionalità non possiamo perderla, la voglia e la fame di vincere e di incidere ancora una volta in quanti più obiettivi e magari record possibili dobbiamo lavorare sull'ambizione che è la cosa più importante e per fare questo ci ho la testa Grazie a tutti